Raccontando il mondo per come lo vediamo, troveremo chi è pronto a cambiarlo con noi. Dal 4 al 30 aprile, 300 giga, minuti illimitati e 1000 sms, a soli 9,90 euro con attivazione e primo mese gratuiti. Anche per chi è già cliente, passa online o nei punti vendita Coop. Coop Voce. Libera la tua voce.